Tre punti per noi importanti perché alla fine noi giochiamo per vincere e quindi quando arriva poi la vittoria è veramente bello e positivo perché comunque dopo queste prestazioni noi ragazzi si meritano di rientrare dentro lo spogliatoio e festeggiare. Sono contento perché abbiamo vinto secondo me contro una squadra molto forte, io credo che se non avessimo avuto quell'approccio alla gara, quell'istinto nel voler riconquistare la palla e nel voler portare pressione oggi saremmo andati in grande difficoltà perché la Casertana è una squadra che ha un ottimo palleggio a centrocampo e si è visto il secondo tempo, quando noi siamo calati un po' è venuta fuori la loro qualità quindi sono veramente contento di questa vittoria. Mi sono un po' sorpreso nel senso che questa squadra io ho sempre detto dal primo giorno che ha grandissimo potenziale però naturalmente vedere certi principi di gioco già comunque ad un buon livello sono sincero non me l'aspettavo. Ma no, è andata bene da quel punto di vista, poi su due palline attive da Monopoli oggi, ma sono contento, sono contento perché comunque avere un approccio così importante significa che i ragazzi sono concentrati e stiamo raggiungendo una buona mentalità. Adesso tutto sta a continuare, non sarà facile, però se abbiamo equilibrio, se manteniamo equilibrio nel senso che non siano le vittorie a darci quella spinta ma che sia la nostra filosofia cioè il processo di miglioramento allora sì che andremo avanti bene. Se devo trovare dove dobbiamo migliorare stasera è nella gestione del possesso palla nel secondo tempo. Il primo tempo naturalmente dopo il 2-0 potevamo fare il 3-0, l'abbiamo sfiorato in più occasioni e non ci siamo riusciti. Poi è inevitabile che il secondo tempo non possiamo mantenere quelle velocità. Allora dov'è che dobbiamo lavorare sulla gestione del possesso palla? Se il primo tempo è la freschezza di ripartire in verticale, il secondo tempo non ce la puoi avere in 45 minuti ancora finali e quindi la palla va gestita meglio. Gli avversari devono correre. Quello che io però credo che faccia parte della maturità di una squadra. In questo momento per noi la cosa importante è avergli dato questo istinto alla squadra che a me piace perché poi al pubblico questo tipo di gioco piace. È un gioco che funziona poi però poi la squadra dovrà diventare più matura nei secondi tempi soprattutto quando vinci a saper gestire meglio la palla. Poi quando perderemo allora a quel punto le velocità dovranno continuare ad essere elevate ma quando vinci 2-0 e non riesci a fare il terzo e fisicamente cagli un po' allora la squadra deve essere più matura. Bombaggi sta meglio, non è sicuro che lo recupereremo perché ha avuto tipo un colpo della strega che è abbastanza doloroso. Io spero che domani possa star meglio però è in forte dubbio. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.